Intanto segnalo che la richiesta che Sella ha fatto alla Camera oggi è stata presentata e portata direttamente in aula da Massimo Mucchetti al Senato. Io mi associo immediatamente alle sue parole. Ovviamente le sue dichiarazioni sono state smentite dopo qualche secondo dal gruppo del PD che dice che Mucchetti parla titolo personale. Secondo me Mucchetti parla titolo di tutti gli elettori del Partito Democratico e del centro-sinistra che si chiedono come siano andate davvero le cose. Ieri Renzi ha ammesso, cercando di banalizzare, che si tratta di una manina. Secondo me la sua è una manona perché il fatto che il Governo si assuma tutta la responsabilità in modo collettivo nella persona del Presidente del Consiglio rispetto a questo testo e al procedimento che ha portato alla sua approvazione, anche se poi non si capisce mai se è un testo definitivo, anche questo incomincia ad essere un problema, beh io credo che sia un fatto di estrema gravità. Non mi piace nemmeno che si stia giocando sul 3% con i termini percentuali, per cui uno parla dell'1,85, 1 del 2,5. Sembrano le soglie dell'Italicum o forse sono le soglie dell'Italicum, perché anche questo fa parte della qualità della nostra democrazia.